Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo primo video della serie Gameplay e Discovery voglio parlarvi di Mainheater. Non voglio mostrarvi il classico gameplay commentato oppure farvi una recensione, ma voglio dirvi a grandi linee le mie impressioni e considerazioni personali su Mainheater. Perché dovresti acquistarlo? Perché non dovresti acquistarlo? Che cosa ha da offrire? Che tipo di gioco è praticamente? Quindi voglio farvi a grandi linee un po' il tutto per darvi la possibilità di avere un po' nella mente che tipo di gioco andrete a ritrovarvi qualora decidiate di acquistarlo. Allora, Mainheater, partiamo subito dicendo che è un gioco di ruolo sullo squalo. Avete capito bene? È probabilmente il primo gioco di ruolo basato su uno squalo. E quindi diciamo non avete un eroe da controllare, una gilda nella quale entrare a far parte, non vi è un mondo fantasy. Insomma, è il classico gioco di ruolo perché poi quando si parla di gioco di ruolo nella mente si hanno svariati titoli come ad esempio Fable, non lo so, i recenti Assassin's Creed. Insomma, ci sono tantissimi giochi di ruolo sul mercato. Quindi quando si parla del genere ruolistico nella mente si ha un certo tipo di gioco che non è assolutamente Mainheater. Se io vi dico Mainheater, voi non pensate ad un gioco di ruolo. Eppure Mainheater è un gioco di ruolo. Il primo gioco di ruolo basato su uno squalo, il che lo rende davvero unico nel suo genere, molto originale e accattivante. Ma procediamo per gradi. Mainheater vanda un mondo aperto. Non paragonabile naturalmente ad un open world, ha i suoi limiti, però è aperto. Come potete vedere è suddiviso in varie zone che possono essere liberamente esplorabili e dove al suo interno sono presenti diverse attività da portare a termine. Da cartelloni da sfondare in stile burnout, a forzieri da rompere, cancelli, missioni principali, attività secondarie, nascondigli eccetera eccetera. Diciamo che qui vi è subito una nota dolente, un lato negativo, la ripetitività delle missioni. Le missioni si ripetono e ripetono e ripetono all'infinito. Praticamente adesso vi do una dimostrazione, tipo qui. Divora 15 umani, divora 10 umani, divora 15 umani. Cioè si ripetono all'infinito. Oppure distruggi il bersaglio, distruggi il bersaglio, distruggi il bersaglio. Cioè in ogni zona avrete due, tre al massimo tipologie di missioni ma sono sempre le stesse. Praticamente voi uccidete i bersagli, divorate gli umani, distruggete le imbarcazioni. E fate questo sempre, per tutta la durata del gioco, fino a quando poi non esce allo scoperto il boss che dovete sconfiggere. Però fate sempre le stesse cose. Ecco, a variare un po' la situazione vi sono i forzieri, i cartelloni da sfondare, i cancelli, i segreti vari. Ma bene o male farete sempre la stessa cosa per tutta la durata del gioco. Questo per quanto riguarda la mappa. Come potete vedere in ogni mappa vi sono dei forzieri da trovare, cartelloni da sfondare, dei punti panoramici e oltre a questo le classiche missioni di cui vi ho parlato. In qualsiasi momento tramite il registro delle missioni potete tenere sotto controllo le missioni attive, quelle completate con le relative ricompense. che sono riportate nella parte bassa dello schermo e che fungono, lasciatemi sfuggire il termine, da valuta. Valuta da utilizzare in gioco per potenziamenti, migliorie e quant'altro, che vedremo tra poco. Poi vi sono questi mini boss che praticamente escono allo scoperto solo dopo che avete raggiunto un certo livello di infamia. Avete presente in GTA quando aumentano le stelle? Con l'aumentare delle stelle e quindi del ricercato arrivano rinforzi di vario tipo. Qui il discorso bene o male è lo stesso. Solo che una volta che arriverete al livello successivo di infamia, quindi primo livello, secondo, terzo eccetera, arriverà il cacciatore di turno che vorrà eliminarvi e se lo ucciderete guadagnerete non solo le classiche ricompense in valuta ma anche potenziamenti o migliorie o equipaggiamenti per lo squalo. Quindi oltre ai boss classici di ogni zona che usciranno allo scoperto soltanto dopo che avete completato le varie missioni, ci sono questi mini boss che una volta uccisi vi permetteranno di ricevere appunto degli equipaggiamenti esclusivi. E poi andiamo allo squalo. Lo squalo è personalizzabile, migliorabile e potenziabile. Nel corso del gioco passerete dall'età adolescente al giovane, all'adulta e all'anziano. Quello che vedete adesso ovviamente è l'ultima mutazione, cioè l'ultimo stadio anziano. E sulla destra avete massa, salute, difesa, danni e velocità che migliorano con il livellamento. Quindi man mano che avanzerete nel gioco, migliorerete anche quello con il progredire dei livelli. A sinistra invece abbiamo i vari componenti dello squalo che possono essere equipaggiati e migliorati, quindi sbloccati e ottenuti nel corso dell'avventura. Quindi diciamo alcuni dai boss della zona, altri dai mini boss di cui vi ho parlato. Altri ottenibili livellando. E possono essere migliorati appunto con la valuta di cui vi ho parlato. Ogni componente naturalmente vanta caratteristiche differenti, come potete vedere. Quindi non è solo un fattore estetico, ma conferisce allo squalo, diciamo, agevolazioni e migliorie di vario tipo. In alto a destra, come potete vedere, vi sono quattro differenti valute da spendere per il potenziamento e miglioramento sia dei componenti interni, che sono questi, cioè esterni, voglio dire, le fauci, il corpo, le pinne, eccetera, che le abilità, quindi tipo l'or, questo organo qua praticamente, la ghiandola surrenale, il cuore, eccetera, eccetera. Insomma, quindi ci sono diverse cose da fare. Ora, essendo un mondo aperto siete liberi di fare quello che volete, però naturalmente, se volete progredire con la storia, dovete portare a termine le varie attività principali o secondarie che siano. Avete a disposizione la barra della salute, ma quando uscite fuori dall'acqua, non qui, praticamente, quando andate sulla terraferma, avrete a disposizione anche la barra dell'ossigeno, che, come potete vedere, scende lentamente perché ho installato l'apposito potenziamento. All'inizio, diciamo, potete stare fuori dall'acqua a pochissimo tempo, ma con il progredire del gioco, diciamo, avete maggiore libertà. E come vedete, si ricarica velocemente una volta che siete entrati in acqua, a differenza della salute che può essere ricaricata divorando, diciamo, le altre specie, tipo, ecco, il pesce pappagallo. Potete, naturalmente, correre, se, diciamo, può definirsi correre perché sott'acqua non si corre, si nuota, però comunque potete, ecco, accelerare il movimento dello squalo, mangiucchiare tutto ciò che trovate in giro, dare colpi di coda, schivare i proiettili dei nemici o i morsi delle altre specie e risalire in superficie o scendere negli abissi. Ogni regione è differente, cioè, non è che vi ritroverete nella stessa acqua, con gli stessi assets, con le stesse ambientazioni, a seconda della regione in cui vi trovate, praticamente non cambia nulla, no. Ogni regione è diversa, infatti, magari, all'inizio vi trovate in una zona paludosa dove non si vede praticamente una mazza perché è tutto verde lo scenario e, andando avanti, ecco, vi troverete in luoghi più puliti, più acquatici, diciamo, dai, più oceanici, ecco, lasciatemi sfuggire il termine. E, niente, questo è tutto per quanto riguarda Mainheater. Ho cercato in questo video di darmi una panoramica generale di quello che dovrete fare, di quello che potete fare in Mainheater. Quindi, se siete alla ricerca di un, diciamo, gioco di ruolo originale, sicuramente Mainheater fa al caso vostro. Anche se, come vi ho anticipato, le missioni sono davvero ripetitive. Quindi vi troverete a fare la stessa identica cosa per tante, tante ore. Quindi, tenete presente questo, che se acquistate Mainheater, ok? È bello perché potete potenziare lo squalo, personalizzarlo, trovare collezionabili, divertirvi a mangiare umani, insomma, è bello perché è bello, assolutamente. È originale, divertente, coinvolgente, quello che vi pare, ma è molto ripetitivo. Quindi, tenete bene a mente questo se decidete di acquistarlo. Comunque, nella descrizione del video io vi riporto il link per acquistarlo, sia su Amazon, per le varie versioni console, che su Instant Gaming e CD Case per PC. Se questo video vi è piaciuto, vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Touch Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.